A differenza della media italiana che si assesta molto vicina allo zero, l'indice di prezzi al consumo a Bergamo nel mese di aprile sale dello 0,3% rispetto ai dati di marzo e della 3,1% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. Ancora una volta la variazione più significativa riguarda la divisione di spesa dei trasporti che, trascinata verso l'alto dal rincaro dei voli nazionali con un più 29,3%, fa registrare un aumento dell'1,5%. Crescono ancora benzina e gasolio, più 3,5%, e i mezzi di trasporto pubblici. In aumento dell'1% la voce abitazione, ad incidere in questo caso sono l'energia elettrica e il gas, che salgono rispettivamente della 5,2% e dell'1,3%. In lieve calo invece, lo 0,1%, la divisione mobili, articoli e servizi per la casa. Cresce la divisione bevande alcoliche tabacchi, con una variazione sul mese scorso dello 0,4%, mentre resta positivo il settore ricreazione, spettacolo e cultura, che si assesta allo 0,3%, con un leggero aumento, soprattutto di supporti per registrazioni audio-video, e-book e dei pacchetti vacanza. Nella stessa divisione di spesa risultano invece in calo i giochi, gli articoli per il giardinaggio e i romanzi. Una variazione minima, lo 0,1%, si registra per abbigliamento, calzature e bellezza, mentre risulta hanno invariate le divisioni dei servizi sanitari e le spese per la salute e dell'istruzione. Buone notizie per quanto riguarda i generi di prima necessità. I prodotti alimentari diminuiscono dello 0,3%, i servizi di ristorazione dello 0,2%, con in testa i fast food in discesa del 2%. Il calo più significativo si rileva nella divisione delle comunicazioni, con un meno 3,4% rispetto all'anno scorso, ed in particolare diminuiscono del 5,1% gli apparecchi per la telefonia mobile.